Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi parliamo di frazioni algebriche. Andiamo innanzitutto a vedere che cos'è una frazione algebrica. Per frazione algebrica, ad esempio, noi possiamo prendere a più b tutto fratto a al quadrato meno b al quadrato. Quindi possiamo vedere direttamente che per frazione algebrica si intende semplicemente una frazione, dove al denominatore vi è sempre un'incognita. L'unica cosa che dovete prestare attenzione in queste frazioni è che dovete porre sempre il campo di esistenza. Essendo una frazione, il campo di esistenza consiste semplicemente nel porre il denominatore diverso da zero. Quindi, ad esempio, in questo caso, noi possiamo scrivere che a al quadrato deve essere diverso da b al quadrato. Oppure, facciamo un altro esempio, 4x fratto x meno 3, dove potete vedere l'incognita è presente anche al denominatore. Quindi noi poniamo subito il campo di esistenza, quindi x meno 3 diverso da zero, ovvero x diverso da 3. E poi così via. Quindi gli esercizi saranno tutti molto simili a questi. Quindi porre subito il campo di esistenza e vedere se è possibile poi semplificare. Infatti, ora vediamo proprio qualcosa riguardo la semplificazione. Prendiamo un esempio, ab meno a tutto fratto b al quadrato meno 6b più 5. Allora, possiamo vedere che al numeratore abbiamo una a sia nel primo termine che nel secondo termine, quindi lo possiamo mettere in evidenza. Quindi facciamo un raccoglimento totale al numeratore. Anche in questo caso, soprattutto nelle frazioni algebriche, noi continueremo ad usare le scomposizioni. Quindi vi invito a vedere poi i video precedenti in cui ne parlo. E quindi mettiamo la a in evidenza e dentro verrà b meno 1, tutto fratto. Al denominatore, invece, trinomio speciale, dove il trinomio speciale ci diceva che il prodotto deve fare più 5, mentre la somma deve essere meno 6. Quindi, il prodotto più 5, noi possiamo pensare che i due numeri siano proprio 5 per 1, in modo tale che poi ci dia come somma meno 6. Quindi, iniziamo a mettere b 5 e poi b 1. Ora, dobbiamo capire però i segni. Allora, il prodotto deve essere più, però la somma meno. Quindi, io penso, metto meno e meno, in modo tale che meno 5 per meno 1 faccia più 5, però meno 5 meno 1 fa proprio meno 6. Ora, avendo scomposto tutto, quindi sia numeratore che denominatore, procediamo per vedere se c'è qualcosa da semplificare. Vediamo che, essendo tutto prodotto, perché qua c'è un prodotto, qui c'è un prodotto, allora possiamo procedere con le semplificazioni. E vediamo che questa tonda, ovvero b meno 1, è presente sia al numeratore che al denominatore, quindi la semplifichiamo. Ora, prima di procedere poi con il risultato finale, non ci dimentichiamo il campo di esistenza. Quindi il campo di esistenza dobbiamo prendere entrambe le tonde, quindi b meno 5 diverso da 0 e b meno 1 diverso da 0, ovvero b sarà diverso da più 5 e b sarà diverso da più 1. Quindi ora semplifichiamo e il risultato proprio finale sarà a fratto b meno 5. Facciamo giusto un altro esempio per poi andare a vedere le operazioni con le frazioni algebriche. x al quadrato meno 8x più 16 tutto fratto 3x al quadrato meno 48. Allora, al numeratore vediamo che questo termine, diciamo il numeratore stesso, lo possiamo scomporre in un quadrato di binomio. Quindi scriviamo x meno 4 tutto al quadrato, perché x al quadrato ce lo troviamo, poi meno 4 al quadrato fa più 16 e poi il doppio prodotto, che sarebbe meno 8x, il termine centrale. Poi diviso, invece al denominatore andiamo a mettere il 3 in evidenza. Quindi facciamo x al quadrato meno 16 e continuiamo, perché mi accorgo che la tonda al denominatore può essere ancora scomposta. Quindi facciamo x meno 4 al quadrato fratto 3 e questo vediamo che può essere scomposto in somma per differenza, quindi x meno 4 per x più 4. Ora, prima di andare a semplificare, facciamo subito il campo di esistenza, altrimenti lo dimentichiamo. Facciamo 3 diverso da 0 e però noi sappiamo essere sempre. Poi x meno 4 diverso da 0, quindi x diverso da 4 e infine x più 4 diverso da 0, ovvero x diverso da meno 4. Ora, una volta trovato il campo di esistenza, possiamo andare a semplificare. Vediamo che al numeratore è presente un x meno 4 al quadrato e anche al denominatore un x meno 4. Quindi lo leviamo e leviamo. Quindi il risultato proprio finale sarà x meno 4 che rimane al numeratore. Sotto invece verrà 3 per x più 4. E con questo abbiamo concluso la semplificazione. Ora invece andiamo a vedere qualcosa sulle operazioni. Quindi partiamo con addizioni e sottrazioni. Prendiamo prima un esempio molto semplice per vedere, diciamo, la regoletta generale e poi passiamo con un esercizio. Ad esempio io scrivo a fratto c più d fratto c più b. Allora, subito voi potete vedere che i primi due termini, ovvero le prime due frazioni, hanno lo stesso denominatore. Quindi eventualmente possono essere già scritti insieme, ovvero voi potete scrivere a più d tutto fratto c. Invece questo b è separato, quindi poi dovete procedere con il minimo comune multiplo, altrimenti non potete continuare con la somma di frazioni algebriche. Però il minimo comune multiplo lo vediamo in un esercizio. Allora, 2 fratto x meno 1 più x fratto x al quadrato meno 1 meno 1 fratto 2x più 2. Allora, noi possiamo subito vedere che queste sono tutte frazioni algebriche, però non hanno il denominatore uguale. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il minimo comune multiplo. Però il mio consiglio è, prima di passare al minimo comune multiplo, vedete sempre se potete semplificare oppure scomporre qualcosa. Noi iniziamo con le scomposizioni, quindi facciamo 2 fratto x meno 1. Invece di qua ci accorgiamo che il nostro denominatore è proprio una somma per differenza, ovvero x meno 1 per x più 1. Infine, vi è l'ultimo termine, ovvero l'ultima frazione, che anche in questo caso può essere nuovamente scomposto il denominatore con un raccoglimento totale. Quindi 2 per x più 1, in modo tale che, vedete, abbiamo x meno 1, x meno 1, x più 1, x più 1. Quindi non dobbiamo prendere tutti e tre i denominatori come nel primo caso, bensì il minimo comune multiplo sarà anche più semplice da riconoscere. Perché questo sarà, facciamo una bella linea lunga, 2 per x meno 1 per x più 1, perché abbiamo preso tutti i termini, ovvero il 2 che era presente nell'ultima frazione, x più 1 che era presente sia nell'ultima che nella seconda, e quindi l'abbiamo preso, e poi x meno 1 presente sia nella prima che nella seconda. E facciamo i nostri calcoli. Allora, prendiamo il nostro denominatore, quindi il minimo comune multiplo, lo dividiamo per la prima. Quindi rimane 2 per 2 viene 4 per x più 1, più, invece qua rimane solo un 2x meno, qua rimane x meno 1, quindi x meno 1. Allora, 4x più 4 più 2x meno x più 1, tutto fratto, 2 per x meno 1 per x più 1, uguale. Allora, andiamo a fare le somme, quindi abbiamo alcuni monomi simili, dove possiamo fare 4x più 2x meno x, quindi 4 più 2, 6, meno 1, 5x. Invece di qua abbiamo più 4 più 1, quindi più 5. E sotto continuiamo a scrivere, quindi 2 per x meno 1 per x più 1. Allora, ci accorgiamo che al numeratore possiamo anche qua fare una scomposizione, quindi un raccoglimento. Raccogliamo 5, facciamo x più 1, fratto e ricopiamo tutto. Quindi 2 per x meno 1 per x più 1. Ora, prima di semplificare, perché subito ci accorgiamo che abbiamo alcune tonde uguali, facciamo il nostro campo di esistenza. Quindi il campo di esistenza 2 diverso da 0, però sarà sempre. Poi x meno 1 diverso da 0, quindi x diverso da più 1. E infine x più 1 diverso da 0, allora sarà proprio x diverso da meno 1. Ora, come vi dicevo, possiamo semplificare. Quindi semplifichiamo questo e questo. Quindi il risultato proprio finale sarà 5 fratto 2 per x meno 1. Bene ragazzi, con questo abbiamo visto le prime operazioni con le frazioni algebriche e poi ci vediamo domani per continuare su questo argomento. Ciao!